Ciao amici, benvenuti nel mio canale. La danza coraggiosa di Tuba Bujukustun ha suscitato polemiche sui social media. La danza di Tuba Bujukustun sul palco con il suo costume coraggioso è stata condivisa sui social media e l'attrice che ha attirato l'attenzione con il suo costume con la giarrettiera ha risposto duramente alle critiche. Tuba Bujukustun ha condiviso i momenti in cui ha ballato sul palco con il suo costume coraggioso sulla sua pagina dei social media. Tuba Bujukustun, che ha pubblicato le sue danze con la nota, vengo con il tè preparato, non è passata inosservata nel suo costume locale. Le danze e i movimenti di Tuba Bujukustun sono stati giudicati osceni e i suoi movimenti sono stati criticati come magnifici. Tuttavia, le critiche al cantante non sono rimaste in silenzio e il punto in cui ha preso provvedimenti duri contro le critiche mosse è stato Tuba Bujukustun, che ha detto, wow, amico mio, ho vissuto, il paese è il tuo destino. Se non siete solo bigotti ma anche grassi tori inattivi seduti a casa, ah, siete un bizoglu, siete grassi. Desidererete la proprietà, marito o moglie, di chiunque parli di onore. Chi ci resta per fare il nostro lavoro? Condivideremo con voi i nuovi sviluppi su Tuba Bujukustun. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Ciao!